Buonasera a tutti. Nell'ultima psicopillola abbiamo parlato dell'infanzia e dell'istituzione scuola come centro dedicato a loro. Oggi vorrei occuparmi della fascia di popolazione opposta, gli anziani, gli over 65, gli over 70, che in questo periodo hanno avuto un'attenzione particolare da parte di tutti noi, un'attenzione che si è declinata in modalità opposte, spesso contraddittorie. Dapprima etichettati come gli untori, additati come tali, guardati con rabbia, radunarsi effettivamente magari al di là delle regole e dei limiti consentiti, fare piccoli cappannelli di chiacchiere. Sono stati intesi come coloro che avrebbero dovuto e dovrebbero occuparsi dei nostri figli, dei bambini, nella misura in cui i non over 60, gli ancora abili, sono impegnati al lavoro. Al contempo lasciati morire, lasciati morire abbandonati nelle RSA, in alcuni casi abbandonati. Ora, io credo che tutta questa, direi, confusione del rapporto che ci lega a loro parla di quanto siamo in contrapposizione, in lotta in fondo con quel periodo della vita, il periodo in cui si è meno prestanti, si è meno presenti e si è vicini a quello squarcio nel velo che è l'altrove, il non essere più presenti, la non vita, la morte dunque. Credo che i nonni debbano essere trattati con maggior rispetto. Credo che non possiamo rivolgerci a loro come causa dei mali, per poi separarli dai nipoti, ma ingaggiarli quasi doverosamente, questo mi piace davvero poco, il ritenere che debbano occuparsi dei bambini. È una possibilità, è una eventualità, ma credo che non sia qualcosa che dobbiamo chiedere a loro con insistenza e arroganza. È una possibilità, ma non è detto che una persona over 65 che si fa anche un po' fatica ad oggi inquadrare come vecchio, come anziano, come scarsamente abile, sia necessariamente destinato a una vita priva di interessi, non attiva, e quindi alla mercè a disposizione dei più giovani. Il rapporto conflittuale che noi abbiamo con la morte, secondo me, si rispecchia davvero con il rapporto conflittuale che poi intratteniamo con questa fascia d'età in generale. E questo davvero lo vediamo dalle contraddizioni molto prepotenti con cui in questo periodo particolare, quello caratterizzato dal Covid-19, noi ci siamo rivolti a loro. Spesso, devo dire, con davvero poco rispetto. Beh, credo che questa faccenda ci debba interrogare, interrogare maggiormente. Grazie a tutti.